Bene, c'è tutto. Tutti gli ingredienti che dici sempre tu. Le proteine tofu, i carboidrati a lento rilascio pasta integrale con l'olio grasso, le fibre con il sedano e gli zuccheri con questi biscottini, sono dolci ma senza glutine, e poi il latte vegetale. Ma cosa stai facendo? Faccio un frullatore con tutti i tuoi nutrienti, scusa, non si vede? Ma cosa fai? Aspetta. Io non berrei quella brodaglia nemmeno per vincere un affrullato challenge. Ma no, guarda, è buonissimo. Non ci credo, e nemmeno gli amici che ci guardano, no. Dai, venite con me che adesso vi faccio vedere il mio frullatone risolutivo. Ciao amici, vi è piaciuta la scenetta? In tanti mi avete scritto che vi mancavano le mie scenette iniziali. E anche a me, perché mi diverto un sacco a dire la verità. Quindi, grazie di averla chiesta. Spero vi sia piaciuta. Scrivetelo nei commenti qui sotto. A proposito di commenti, una parentesi. Vi ringrazio per le belle parole che mi scrivete ogni giorno nei commenti ai video. Sapere che vi aiutano tutti i giorni nella vita mi dà una spinta ad andare avanti e fare sempre meglio. Oggi vi racconto un'altra delle mie strategie di sopravvivenza alimentare. Il frullatone risolutivo. Avete presente quando volete mangiare qualcosa di leggero, buono, nutriente, ma anche digeribile in fretta, che non abbiocca? Ed è anche un pasto completo e sostitutivo? Tutto in uno? Ma è cibo per astronauti? No, non cibo per astronauti e neanche cibo per pappagalli. Cibo sano, veloce, pratico per tutte le situazioni. È così buono da far dimenticare tutto il resto. Ma non esiste un cibo così, sennò io lo mangerai sempre. Ne ho creato uno io, il frullatone risolutivo. Fresco, energizzante, detox, dimagrante. Lo potete alternare all'insalatona risolutiva e ai tre panini della salute per mangiare in modo intelligente e sano, come vi propongo. Oggi lo facciamo insieme, così vedete come lo faccio io. Sono pronta! E poi vi ho preparato anche una sorpresa speciale, ma ve la svelerò dopo. Restate con me fino alla fine del video. Allora, per essere risolutivo, il frullatone deve contenere tutti gli elementi nutrizionali degni di un pasto. Quindi proteine, carboidrati, fibre, grassi, zuccheri naturali e poi vitamine, minerali, enzimi. I semplici frullati di frutta e verdura non hanno tutte queste proprietà. Io procedo così. Per prima cosa metto un po' di latte vegetale, che contiene carboidrati e proteine. Lo metto in fondo al frullatore prima di aggiungere gli altri ingredienti. Nel mio caso oggi ho scelto latte di riso e di mandorla senza zucchero. A me piace molto perché è leggero, è dolce naturalmente, senza zucchero mi raccomando, ed è molto digeribile. Da bambina la mamma mi faceva spesso frullati a merenda, con il latte di mucca e lo zucchero bianco, come si faceva una volta. Vi ricordate il frullato di banana? O banana e fragole? Era buonissimo, ma io non lo digerivo. E così ho sviluppato una certa antipatia contro i frullati. Ma che peccato, sono così confortanti. Sì, infatti poi quando ho iniziato a usare il latte vegetale è cambiato tutto. All'inizio, circa 30 anni fa, ho scoperto il latte di soia, ma non solo, ho trovato anche quello aromatizzato alla vaniglia. E per me è stata una conquista straordinaria. Potete immaginare cosa provavo di fronte a questo liquido bianco che aveva la consistenza del latte, ma non era latte, potevo berlo. A me il latte di soia proprio non piace. Per me era paradisiaco, credimi. Comunque oggi abbiamo a disposizione decine di tipi di latti vegetali, uno più digeribile dell'altro. Latti di riso, latte di avena, di kamut, di mandorla, di nocciola, latte di cocco. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Allora, nel frullato, per l'apporto di proteine, vanno bene l'avocado, oppure i semi come mandorle, noci, nocciole, anacardi, o semi di canapa, di zucca, sesamo, chia, in forma di crema o di farina. Non metteteli interi dentro il liquido perché non si frullano, piuttosto frantumateli prima. Io qui metto due cucchiai di polvere o farina di mandorle. Come carboidrati si può ricorrere alla classica banana, oppure si possono usare i fiocchi o i soffiati di miglio, avena, riso, quinoa. Fate le vostre prove. Niente maccherone integrali frullati? Ma per favore, io metto due cucchiai di fiocchi di miglio, anche perché non hanno glutine. Sono molto digeribili. Per le fibre è facile. Tutti i tipi di frutta in tutte le stagioni contengono fibre. Quindi basta mettere un tipo di frutta a piacere. Pera, mela, pesca, albicocca, kiwi, fragole, frutti di bosco. Io, vista la stagione, uso le fragole biologiche. Ne metto una tazza, così. State facendo anche voi il frullato insieme a me? Mi raccomando, provatelo subito e poi voglio leggere com'è andata nei commenti qui sotto. E come sempre, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Iscrivetevi al canale con un click, così. E attivate le notifiche e condividete questo video. Fate anche voi portatori sani di salute, come me. Per quanto riguarda i grassi, si può usare, per esempio, l'olio di riso, che è molto leggero come sapore e abbassa il colesterolo. Oppure, se siete integralisti e non avete paura dei sapori forti, potete mettere anche un cucchiaino di olio di lino. E per il dolce, tu che zucchero metti? Ma nessuno! Tutta la frutta è ricca di zuccheri naturali. Non serve aggiungere nessun altro dolcificante. Abituatevi a non aggiungere dolce al dolce. Basta quello della natura. Per dolcificare usiamo un secondo tipo di frutta dolce, come i datteri, le prugne secche o una banana. Infine, per le vitamine, i minerali, gli enzimi, è tutta la frutta che quando è fresca ci dà queste sostanze. Quindi siamo a posto. Ora aggiungo il resto del latte. Sono 350 ml in tutto. Chiudo e frullo. Ci siamo! È pronto! Il frullatone sostitutivo è pronto. Fresco, energizzante, detox e dimagrante. Lo assaggio io per voi. È buonissimo! De seta e sazia. Ma vi dico due regole fondamentali. Perché sia buono e digeribile insieme, va usata frutta molto matura, mai acerba, e va bevuto a stomaco vuoto. È buonissimo, è vero! Poi sazia! Ma la tua sorpresa speciale? Per preparare questo video, ho sfogliato i miei quaderni di sopravvivenza alimentare, scritti nel corso degli anni. Proprio come questo. Qui avevo raccolto tante mie ricette di frullatoni risolutivi e adesso le ho messe in un ebook che potete acquistare all'indirizzo nell'info box qui sotto. Sono 12 ricette veramente buone e nutrienti e solo per voi che seguite il canale oggi sono in offerta speciale. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Naturalmente! Ciao! Questo sì che è un pranzo completo! Grazie a tutti!